Musica Ancora qualche settimana e il vecchio Stadio Ball Arena, così come tutti lo conosciamo, non ci sarà più. A giorni infatti è atteso l'arrivo di ruspe operai per l'avvio dell'opera di demolizione che riguarderà le due curve e la tribuna est, mentre sarà conservata la tribuna ovest là dove c'è soltanto il muro sul quale grava il vincolo della sovrintendenza. I lavori di demolizione che si concluderanno entro ottobre 2023 saranno eseguiti dalla ditta Laganaro, aggiudicatrice dell'appalto. Entro settembre saranno affidati i lavori e quindi inizieranno ufficialmente. Per la programmazione dei vari step, delle varie fasi, ci affidiamo alla ditta che poi materialmente svolgerà l'attività, quindi il cronoprogramma potremo essere più dettagliato nel momento in cui partirà il cantiere. Al primo step seguiranno gli altri verso la riqualificazione della vecchia Fossa dei Leoni in parco urbano, sulla base del progetto redatto dall'Archistar Guido Canali. Termineranno nel 2026 come è previsto per tutti i bandi che poi rientrano nel PNRR, per cui io penso anche prima. A disposizione al momento ci sono fondi per circa 2 milioni e 700 mila euro, già comprensivi della maggiorazione imposta dal caro materiali, cifra alla quale potrebbero presto aggiungersi altri 450 mila euro da parte della fondazione Carisap. E poi c'è la questione viabilità. Diciamo che sicuramente nel momento della demolizione, soprattutto della curva est, dei distinti, quindi chiaramente lì il traffico sarà interrotto, non so poi come i vigili penseranno di modificare la viabilità, però diciamo che tutto il progetto è fatto mantenendo la viabilità attuale, perché per poter cambiare poi la viabilità, come già è stato ovviamente detto, è una variazione piano regolatore, insomma per cui è un po' più complessa la cosa.